Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Garcini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Si ricorda che per lavori fino all'8 dicembre resterà chiuso il tratto al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della FIPILI per una frana avvenuta proprio in FIPILI al chilometro 79 e 865. Su raccordo Siena-Filenze, scambio di carreggiata tra San Cacciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Statale 64 Correttana, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni per una frana tra Pavana e Ponte della Venturina. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!